Ci siamo quasi! Mancano pochissimi giorni all'inizio del Festival del Disegno, che si svolgerà a Milano, al Castello Sforzesco, il 14 e il 15 settembre. Tutti e due i giorni troverete i laboratori per bambini a ciclo continuo e gli atelier d'artista, che saranno a numero chiuso, prenotandosi all'Infopoint. Per il programma più dettagliato potete andare sul sito di Fabriano. Ora, tocca a voi! Lasciate andare fantasia e creatività, e sarà bellissimo vedervi tutti a disegnare!